avviatore di veicoli d'emergenza enerjump è un articolo nuovo di nuova produzione praticamente sostituisce i vecchi e mastodontici avviatori una comodissima custodia a borsello una valicetta in cordura con due cerniere lampo aprivili al suo interno troviamo una presa da un murale per caricarlo quindi si carica in casa tranquillamente poi abbiamo l'avviatore vero e eroga potenza è dotato anche di una comodissima luce d'emergenza una luce a led qui è la presa per caricarlo si carica mettendolo con questo carica batteria murale una volta carico portate con voi per ogni evenienza in questa parte qua troviamo i classici i classici moschettoni da mettere sulla batteria della vostra auto l'attacco per caricarlo anche con l'energia dell'auto mettendolo nell'accendisigari per cui molto pratico anche qui abbiamo una comodissima presa per caricare il cellulare una presa usb perché ha anche questa funzione a è sì Grazie.